Un saluto a tutti i pontegnusiani e grazie per essere con noi. Ritorna autunnamo dopo due anni di fermo. La festa tradizionale di Ponte Curone, avvenuta l'1 e l'2 ottobre, ha abbracciato circa 25.000 persone. Un successo tanto atteso. Servizio. A Ponte Curone il ritorno di autunnamo dopo due anni di fermo. Sanno divertimento con tema, le feste del nostro calendario ha intrattenuto circa 25.000 persone che hanno raggiunto il paese natale di San Luigi Orione per poter godere di una delle feste più conosciute nei dintorni. All'evento hanno partecipato tutte le associazioni con anche il contributo degli artigiani commercianti. Le attività tiramate per le varie piazze erano rivolte non solo ai più piccoli ma anche agli adulti. Arti e curiosità scientifiche hanno trovato postazioni tra le varie vie e piazze principali di Ponte Curone. Non solo gastronomia, con tante prelibatezze caratteristiche delle ricorrenti festività annuali, ma anche musica e divertimento grazie alle giosse presenti in Piazza Marti della Libertà. Tanti colori, profumi e gusti hanno ribussato le porte di Ponte Curone, il paese lieto di riabbracciarli. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo ancora una volta che abbiamo il nostro canale YouTube al quale potete iscrivervi e inoltre attivare le notifiche cliccando sulla campanella in basso a destra. Facendo così potrete rimanere sempre aggiornati sulle notizie di Ponte Curone e di intorni. Ed ora ricordiamo anche che abbiamo una novità. Ponte News ha sia Telegram che WhatsApp. Se verrete aggiunti al gruppo Telegram e WhatsApp avrete la possibilità di vedere i video servizi e le interviste che la nostra testata giornalistica propone a voi Ponte Newsiani. Ed ora passiamo ai saluti. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona continuazione. A presto!